Se ti fermi un attimo e pensi, tutto questo ti sembra quasi irraggiungibile. Ha un'energia instancabile, la capacità di rinnovarsi ogni giorno, risorse quasi infinite. E tu capisci che racchiude in sé una grande ricchezza di valori. Se ti fermi un attimo e pensi, capisci che il gruppo Banca Popolare di Bari è un'idea senza confini.